Gentili telespettatori, ben trovati. Le consultazioni continuano. Dopo i vari incontri politici, oggi incontriamo l'ex presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, Massimo Laporta. Ben trovato, Massimo. Ciao, buongiorno Gianni. Ecco, ex presidente del Consiglio, perché lo scorso 30 di dicembre, con un colpo di scena, lo abbiamo titolato noi, l'ha titolato anche la città di Salerno, il quotidiano, Massimo Laporta all'improvviso, insomma, al termine del Consiglio Comunale, si è dimesso. E allora, Massimo, subito vogliamo sapere le motivazioni, perché poi, nel ringraziare tutti, lo staff, insomma, l'ente comunale, i vari consiglieri, il segretario e quant'altro, naturalmente poi si è chiusa la diretta che abbiamo realizzato poi noi come Ciletto Channel, ma non abbiamo ancora saputo le motivazioni. Allora, perché questa scelta? Le motivazioni sono semplici, una non condivisione di un progetto futuro, un progetto che ho tentato, nel percorso di questi anni, con un confronto sempre leale con il sindaco Coppola, di tentare di dare un'azione amministrativa diversa, con un cambio di passo, ma non ho avuto un riscontro dall'altra parte con dei dati oggettivi. Nella consapevolezza che il mandato Coppola era un mandato di gestione di tutti gli investimenti che nel decennio dell'amministrazione Alfieri abbiamo tutti contribuito a realizzare e la consapevolezza era quella del contenimento della spesa, l'idea era quella almeno di mettere in campo un'azione sulla macchina amministrativa della città dove il decennio precedente non aveva data molta attenzione e l'idea era proprio quella di partire da una riorganizzazione della macchina amministrativa per far sì che eravamo pronti proprio a queste sfide future, non ultima l'occasione che è prossima, quella del piano nazionale di resilienza e rilancio dove se si è preparati si può avere l'opportunità di prendere tanti finanziamenti. Credo che con un immobilismo che da anni la nostra amministrazione ha dato e io ho percepito, ho cercato in tutti i modi di stimolare però non c'è stato un successo che mi aspettavo. Bene, dunque adesso naturalmente divisa la maggioranza si pensa al futuro probabilmente con una coalizione targata Agropoli Oltre che è la lista che tu hai portato avanti cinque anni fa e che suppongo porterai ancora avanti con altre liste spiegaci un po' ecco come adesso sarà indirizzata la tua organizzazione politica Con le mie dimissioni ho voluto marcare il disaccordo che vi era all'interno dell'amministrazione per la non condivisione di quelle possibili e attuabili soluzioni che noi abbiamo tentato più volte di mettere sul tavolo. Ci sarà un ulteriore passaggio alle mie dimissioni da Presidente del Consiglio, ci sarà da parte della lista Agropoli Oltre la collocazione all'opposizione del governo della città e sarà un'opposizione costruttiva per il bene della città di Agropoli ma con un'attenzione massima sia sulle proposte di Consiglio delle delibere di Consiglio sia sulle delibere di Giunta e su tutti gli atti della gestione dell'ente ci sarà la nostra massima attenzione con un costruttivo contributo ogni qualvolta che valuteremo atto per atto. E invece per quanto riguarda invece il futuro di Agropoli Oltre noi non usciremo dalla scena politica agropolesa anzi saremo artefici di una proposta plurale rivolta verso tutte le forze politiche della città ma nello stesso tempo anche al mondo civico al mondo degli imprenditori tutti coloro che vorranno partecipare a un progetto alternativo a quello dell'attuale amministrazione noi saremo promotori di una collezione che sottoporrà un programma amministrativo condiviso da tutti per poi far decidere ai cittadini nella prossima tornata elettorale di giugno 2022. Ecco alla prossima tornata elettorale di giugno si suppone insomma poi il covid permettendo ma noi ce lo auguriamo di giugno 2022 dicevo tanti saranno i candidati a sindaco quindi così come ho fatto le domande un po' a tutti i partecipanti a questo programma la rivolgo anche a te Massimo si assisterà a una frammentazione politica avendo tanti candidati questo secondo te non porterà un vantaggio all'attuale sindaco uscente avendo la possibilità anche di gestire eventualmente diciamo così attraverso il suo attuale potere come primo cittadino anche ed eventualmente favoritismi ecco è naturale che chi amministra parti in vantaggio però questo vantaggio può essere anche un svantaggio se si amministra male oppure il bene comune lo si decide di veicolarlo soltanto a poche persone questa è sicuramente un'opportunità da parte di tutti coloro che vogliono un cambiamento che da più parti si avverte in città ma nessuno ancora ha fatto un passo deciso per quello che mi risulta a me al di là dell'avvocato Basile anche il giovane Amin che si è proposto quale candidato sindaco della città non abbiamo altri candidati ufficiali se non gli schieramenti di tante persone che si riconducono poi a delle figure politiche che in città o hanno fatto politica o sono all'interno di partiti che non sono presenti nemmeno in amministrazione credo che nelle prossime settimane avremo un quadro più chiaro di quelli che saranno poi i pretendenti a sindaco per governare la città di Agrobio certo però io ti chiedo se dovesse essere così come abbiamo insomma elencato o meglio come così si vocifera in città quindi sto parlando di Serra dal punto di vista di una politica più centrista da un costabile Spinelli che potrebbe rappresentare il centrodestra insieme a Basile anche egli insomma esponente di centrodestra eventualmente l'ingresso di Raffaele Pesce per quanto riguarda la sinistra e poi ancora parliamo di un eventuale Emilio Cianciola insomma se dovesse essere così Massimo come il futuro politico di Agropoli insomma come si metterebbe sono tutte persone rispettabilissime che possono ambire alla poltrona del sindaco della città però credo che devono dare chiarezza ognuno di loro per un percorso politico che hanno fatto parlando della dottoressa Serra persona stimatissima in città già vice sindaco della città di Agropoli oggi si trova a coordinare un partito Italia Viva che è all'interno della coalizione di centrosinistra sia in regione Campania in provincia di Sarerno vi è stato un appoggio alle liste di centrosinistra però in realtà il problema è che se ad Agropoli ci sarà un centrosinista unito credo che la dottoressa Serra dovrà innanzitutto chiarire la sua posizione se sgangiarsi dalla dalla lista di Italia Viva e fare le due liste che in una vostra intervista ho sentito dire e lì ci sarà poi un progetto diverso non più una lista politica ma un gruppo di liste civiche che faranno un tipo di politica credo diversa da quello che a livello nazionale regionale e provinciale svolge Italia Viva e su invece Costabile Spinelli pensi che possa insomma decidersi definitivamente perché sembra che le voci che girano siano quelle di una certa candidatura e sì anche lì ci sta credo un po' di confusione perché come ho detto prima l'avvocato Basile con una conferenza stampa ha manifestato di essere lui l'esponente in città del centrodestra sicuramente non ha parlato oppure meglio non ha messo i simboli di Forza Italia dove attualmente Costabile Spinelli a livello provinciale se non ricordo male è vice coordinatore di Forza Italia in provincia di Salerno ha un ruolo di coordinamento insieme all'onorevole Fasano dell'intera provincia credo che innanzitutto Spinelli dovrà raccordare il centrodestra e fare uscire un'unica coalizione non frammentare il centrodestra credo che l'obiettivo di chi coordina un partito importante come Forza Italia deve essere questo e invece su Raffaele Pesce che cosa ci puoi dire Raffaele Pesce già vice sindaco della città di Agropoli con sindaco Antonio Domini ha un'esperienza per poter ambire questa poltrona da sindaco so che sta mettendo in campo una proposta fattibile persona senza ombra di dubbio capace di poter svolgere loro da sindaco bene prima di terminare ancora qualche domanda Massimo soprattutto quella che riguarda diciamo così l'unione con Adamo Coppola tesa a diciamo rompere un po' i giochi nei confronti di Franco Alfieri tu in passato sei stato sempre in qualche modo indicato da qualche testata giornalistica come il vero diciamo intruso no o meglio colui che ha voluto sempre in qualche modo fare combattere in qualche modo Franco Alfieri strumentalizzando sempre a detta della testata giornalistica il sindaco Adamo Coppola che cosa vogliamo dire adesso che in realtà tutto quello che si diceva diventa totalmente diverso nel senso che hai dimostrato insomma andando via dalla coalizione Coppola che appunto tutto quello che si diceva su di te forse probabilmente non è stato assolutamente vero ecco in un certo modo non so se sono stato chiaro sulla domanda si è stato chiarissimo e voglio subito sgomberare tante dicerie io con Franco Alfieri non ho nessun problema personale innanzitutto io quello che ho sempre pensato sin dal 2007 quando mi sono candidato con Franco Alfieri per governare questa città tra me e lui c'è stato sempre un confronto diretto e chiaro non ho avuto mai terze persone che dovevano intercedere delle mie istanze pertanto chi mi conosce e sa il rapporto che c'è stato e ci sta seppur diverso rispetto al decennio che ci ha visto insieme governare questa città io ho lanciato delle idee politiche nel momento che non sono stato accolte qualcuno le ha voluto interpretare che c'è stato un dissenso tra me e Franco Alfieri questo non è vero vi è una visione forse sicuramente diversa di metodo e oggi come ho rappresentato prima è una delle motivazioni che mi porta ad andare via dall'attuale amministrazione Coppola proprio un merito che non mi vede convinto a partecipare in una futura coalizione delle prossime competizioni elettorali chiarissimo e a questo punto prima di chiudere la domanda da un milione di dollari è se Agropoli oltre con qualche altra lista probabilmente esprimerà un suo candidato a sindaco molti e anche insomma parlavano di Roberto Mutalipassi probabilmente e insomma vogliamo sapere dal leader quindi da Massimo Laporta se ci sarà e chi sarà il candidato se magari forse è prematuro anche dirlo però la domanda io te la faccio certo noi come Agropoli oltre sicuramente ci sederemo con pari dignità al tavolo dove parteciperanno altre forze politiche altri movimenti e in quella sede in un confronto costruttivo saremo pronti a prendere anche la responsabilità per governare questa città con la prima poltrona da sindaco però questo credo che sia successivo ad un'intesa che va fatta innanzitutto sul programma elettorale dove ci deve essere una condivisione su tutto per il bene della città molto bene allora Massimo io ti ringrazio per aver partecipato alle consultazioni di Cilento Channel e mi auguro di sentirti insomma a breve per eventuali aggiornamenti sicuramente grazie a voi e a presto a parec che a presto a presto Grazie a tutti